Rai, con Amadeus e addio. Il suo ex storico manager, Lucio Presta, ha deciso di raccontate la, sua, verità Nella giornata di ieri è arrivata anche la conferma di quanto si stava parlando in questi ultimi giorni, ovvero del fatto che Amadeus ha annunciato l'addio alla Rai Tra chi conferma di un accordo oramai trovato con Discovery, pronto ad approdare sul 9, e di un possibile ripensamento, con tanto di offerta faraonica da parte dei vertici alti della Rai, c'è chi ha voluto esprimere il proprio pensiero Ovvero il suo. Si tratta di una persona che conosce molto bene il conduttore televisivo, ovvero l'ex manager Lucio Presta Tra i motivi del possibile addio del Ravennate ci sarebbero anche delle ruggine avute proprio il manager Ne ha parlato rilanciando su suoi account social un articolo che parlava, appunto, del possibile addio di Amadeus Verso la fine dello scorso anno il rapporto lavorativo tra i due si è interrotto Anche se un vero e proprio motivo non è mai uscito. Secondo quanto riportato da alcuni rumors, però, pare che tra le condizioni per poter restare in Rai, Amadeus abbia chiesto l'allontanamento dell'ex manager Lo stesso che cura tantissimi volti noti nel mondo dello spettacolo, tra questi Bonolis, Benigni, Clerici, Veniere ed altri A dire il vero, però, lo stesso Presta ha voluto in qualche modo confermare queste voci che iniziavano a circolare L'ex manager di Ama conferma tutto, le rivelazioni di Presta.Il contratto di Amadeus cadrà il prossimo agosto Nel frattempo continua il suo brillante lavoro con numeri a dir poco eccezionali che sta ottenendo con affari tuoi Intanto continuano ad uscire importanti retroscena che riguardano il suo imminente e possibile addio La rottura con Presta, a quanto pare, avrebbe influito non poco Queste sono alcune delle sue frecciatine postate in rete dal manager, mi sa che è giunto il tempo di dire chi e come sono le persone e come si sono svolti i fatti Ho visto tante facce piene di maschere. È tempo di svelare fatti e circostanze C'è un giudice chiamato tempo che mette tutto e tutti nel loro posto Mimo uno. Non è da escludere che, dopo la rottura di Ama deus con la Rai, possa uscire la versione del manager sull'addio In un primo momento si era parlato di divergenze sul piano lavorativo e professionale La cosa certa, però, è che la figura di Presta poteva creare non pochi problemi Una sorta di dualismo che non poteva essere gestito Staremo a vedere